ciao a tutti benvenuti e bentornati sul canale siccome sono appena tornata da fare la spesa ho deciso di farvi vedere gli acquisti che ho fatto ovviamente come sempre io ci diciamo che ci tengo a specificarlo perché non faccio mai vedere la carne la frutta la verdura perché va subito messa in frigo soprattutto adesso che è estate e quindi faccio vedere solo le cose tipo i dolcini le bibite eccetera ci tengo a precisare perché altrimenti mi svuota la spesa sembra che sempre che siano solo di queste cose qua ovviamente abbiamo comprato anche altre cose salumi carni formaggi eccetera ma sono già in frigo quindi vado a farvi vedere solo queste cosine che diciamo non sono da frigo e che sono anche un pochino più sfiziose se vogliamo questo ragazzi un po un video come sapete quando faccio questi video così è un po un video leggero un po tappabuchi perché non ho più tanto materiale devo trovare nuove ispirazioni e quindi ho detto facciamo uno svuota la spesa dunque non cominciamo subito allora spostiamo di qua le cose e iniziamo inizio con loro i quadrotti struccanti due in uno allora io mi trovo molto bene con i io li chiamo i pad comunque questi qua grandi questi qua sono due in uno parte liscio per detergere e parte rigato per rimuovere il trucco ho trovato veramente una ottima idea e non li ho mai provati questi di solito prendevo quelli ovali ma sempre grandi ma erano in offerta quindi ho preso questi qua secondo me saranno top perché mi ispirano insomma e sono di questa marca idrofil quadrotti struccanti sempre parto diciamo da bagno quindi capelli eccetera ho preso di nuovo questo il balsamo antirottura perché ultimamente ho dei capelli che mi si stanno rovinando tantissimo cadono un sacco sarà lo stress l'ansia tutto quel che ho e io mi ci trovo veramente molto molto bene con questo qua oppure con quelli della come si chiama della pantenne anche quelli sono molto buoni però questa volta ho preso questi qua così poi ho preso questo profumo qua della tesori d'oriente a parte il packaging che è stupendo cioè è bellissimo dicevo che a parte il bellissimo packaging ha un buonissimo profumo aromatico di amla and patchouli buonissimo mi piace molto e l'avevo già comprato una volta e l'ho ripreso perché l'altro stava finendo poi delle salviettine intime delicate queste qua sono molto comode se magari vado in viaggio se faccio una gita se sto via qualche giorno le trovo veramente molto comode in questo pacchettino qua piccolino poi allora roba di gatti allora ho preso questi i jelly sensation questi qua sono allora manzo in gelatina e polli in gelatina perché i miei gatti allora intanto amano di più le cose in salsa però ogni tanto cambio e prendo anche la gelatina perché questa era l'offerta quindi ho voluto prendere queste bubi per esempio il gatto nero mangia quasi solo pesce quindi queste e per hunter quello bianco e nero e per l'altro ho preso appunto queste salmone trota che sono sempre jelly però le mangiano e invece per accontentare un po tutte e due i pranzetti whiskers pranzetti queste le piacciono a tutti e sono bustine un pochino più piccole rispetto alle altre e queste sono pollo e tondo in salsa insomma ognuno ha i suoi gusti poi ho preso anche delle crocchette le ultima urineri ma non ce le ho qui perché le ho già messe via poi mi sono preso degli estate al limone io adoro l'estate al limone buonissimo mi piace tantissimo e le prendo sempre nelle bottigliette piccole però perché nella grande spesso mi vanno male perché magari non lo bevo tutto tanto tutti i giorni eccetera e secondo me dopo due o tre giorni già cambia il gusto e non mi piace quindi le prendo piccolini o nei brick o questi qua poi ho preso un caffè di questi aroma di casa del caffè verniano questo piace tantissimo ai miei genitori io bevo caffè solo da bar perché della mocca a me non piace e in più io bevo solo decaffeinato perché il caffè normale mi fa venire problemi al cuore batticuori eccetera però loro invece alla mattina dopo pranzo dopo cena a volte metà pomeriggio insomma si fanno il loro caffettino e prendono i pacchettini così di solito questo il vergnano appunto o a volte il chimbo sono quelle che le preferiscono poi un altro succo piccolino che ho preso questo qua è melograno ma non è solo melograno anche insieme la mela allora mi piace abbastanza mi piaceva tantissimo arancia rossa di questo tipo qua ma non c'era c'era solo quello grande io lo volevo piccino e niente sono buoni questi succhi della skipper ne ho visti che ne hanno fatti di gusti particolari non so se della skipper o altri però sono molto particolari per ora non li ho presi chissà se magari li prenderò o mi fa ridere che tutte le volte che mi metto a registrare io viene giù il diluvio universale cioè fra un po sentirete anche i tuoni secondo me comunque vi faccio vedere una cosa che ho preso un po di tempo fa che è un po originale questo si chiama chaps e si chiamano long chips in pratica sono delle patatine allungate come vedete sono cinesi giapponesi e le avevo prese da come si chiama quel negozio un vuoto di memoria odd store ok le ho prese all'od store perché volevo fare un video assaggi però non sono mai riuscita a fare questo video perché a me non piace tanto fare i video assaggi video macbank come li chiamano molti non mi piace non è nelle mie corde però fare video assaggi ogni tanto ci stava il problema è che sto avendo da un po di tempo problemi appunto di stomaco di pancia eccetera e quindi non sono andata mai a fare questi video assaggi perché magari assaggeri solo una cosa e basta e quindi niente evito però questi sono patatine originali gusto original se no c'erano diversi tipi di gusti ma appunto non ho voluto azzardarmi poi invece da te li ho preso questi che sono super carini sono dei mini cookies al cioccolato della maxis delle crybabies non penso abbiano dentro il giochino il premietto però come vedete sono molto carini perché hanno tutte queste formine ci sono tutti i vari crybabies e per esempio l'arcobaleno eccetera e niente sono carini le ho pagate 1 euro 55 questo è anche il prezzo e di solito sono buoni questi biscottini qua poi un pacco di pasta le farfalle in questo caso io mangio quando mangio pasta di solito mangio pasta corta quindi penne fusilli farfalle eccetera le ho prese così perché mancavano tuc al bacon che mi piacciono un sacco i tuc sono veramente molto buoni ho visto che li hanno fatti anche alla tipo crema di cipolla una roba del genere però non fa per me nonostante secondo me siano molto buoni quelli al bacon mi piacciono tantissimo e ne ho presi due pacchetti questo è solo uno ovviamente però ne ho fatti che prendere due poi biscottini al cioccolato che adoro questi qua si chiamano plaisir chocolate della lago sono buonissimi ci sono sia al cioccolato che alla nocciola li ho provati tutte e due io preferisco questi al cacao molto buoni poi per finire vi faccio vedere il senso freddo allora noi andiamo molto da questi polaretti senso freddo queste cose qua mia mamma ha voluto prendere questi io sinceramente preferisco i gusti classici quindi fragola ciliegia limone arancia questi sono un po' particolari c'è ananas mango arancia rossa e zenzero miele e mirtillo di questi mi piace molto la arancia e zee rossa e zenzero e ananas gli altri due un pochino meno soprattutto questo non mi piace però sono originali mia mamma ci va matta per questi qua e quindi insomma li abbiamo presi bene ragazzi il video finisce qua questa è una svuota la spesa un po' così veloce fatemi sapere in un commento se voi comprate qualcosa di queste cosine qua com'è la vostra spesa più o meno e niente io vi saluto qua spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video ciao e alla prossima ciao ciao